Grazie a tutti. Il cacciatore Cosentino, interrogato dal giudice per le indagini preliminari di Cremona, spiega il suo coinvolgimento nell'inchiesta, non ho accettato la combine, ha detto non ho fatto nulla, nonostante la sua deposizione è uno dei pochi a rimanere ancora in carcere. Ancora scosse in Calabria nelle ultime ore d'esta preoccupazione d'allarme lanciato dall'Enea e da uno scienziato russo che hanno ipotizzato un devastante terremoto nel sud Italia, ma gli esperti invitano alla prudenza, siamo lontani dall'essere in grado di prevedere il sisma. Non ci hanno mai sequestrato il depuratore, così il sindaco di mandatorizzo, Angelo Donnici, seccato per le notizie diffuse nei giorni scorsi, semmai dice, la guardia costiera ha messo i sigilli a 40.000 metri cubi di fanghi stipati in una vasca. Siamo delusi per il comportamento dell'ufficio del commissario, il 2004 ci hanno consegnato l'impianto, ma non l'hanno mai collaudato. Il parroco della chiesa San Domenico in Zartano, Elio Perrone, ancora turbato per lo strano furto che si è verificato nella sua parrocchia dove sono stati porti via oggetti sacri e ostie, sono serviti per riti satanici, dice, questo è inquietante. Suore Elenaiello torna nella sua Montalto Fugo, sono giunte ieri le reliquie della Beata che rimarranno esposte a disposizione dei fedeli fino a domenica prossima. È possibile compiere una vista virtuale nello storico campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, c'è infatti un sito internet dedicato alla struttura, all'iniziativa e della provincia di Cosenza. Vi ritrovati dalla redazione del TG10 per l'edizione della sera del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai titoli. È iniziata con Alessandro Pellicori, il calciatore Cosentino, arrestato nei giorni scorsi la nuova sfilata davanti al giudice per le indagini preliminari di Cremona, Guido Salvini. Per gli interrogatori dello scandalo calcio scommesse Pellicori ha confermato un contatto con Gervasoni, ma ha negato di aver accettato di entrare a far parte del giro delle scommesse truccate. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili del Cosenza, resta ancora in carcere, mentre per quanto riguarda il processo sportivo la commissione disciplinare ha stralciato la sua posizione. Anna Franchino Ci piacerebbe rivederlo così Alessandro Pellicori, sorridente dopo un gol e sereno in campo durante una partita, e non nelle immagini del suo arresto che hanno fatto il giro delle televisioni in questi giorni. Il calciatore Cosentino, attualmente svincolato dai Queen's Park Rangers, implicato nell'inchiesta del calcio scommesse, è uno dei pochi a rimanere in carcere, mentre altri sono stati rimessi in libertà. Paga forse colpe che non conosciamo, oggi nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Cremona, Guido Salvini, ha spiegato di essere stato sì contattato dal collega Carlo Gervasoni, che gli propose di entrare nel giro delle scommesse truccate, ma di avergli risposto che non se ne sarebbe fatto nulla. Dissi no alla combina, dichiarato con determinazione Pellicori, a cui sono contestati accordi illeciti per alcune partite del Mantua e della gara tra Torino e Siena. L'attaccante, inoltre, avrebbe riferito al GIP che, una volta trasferito alla squadra torinese, ha ripensato alla proposta di Gervasoni, perché è indebitato per via dell'acquisto di una casa, ma dopo averlo contattato si sarebbe immediatamente pentito. Dunque, anche in quella circostanza, Pellicori avrebbe fatto un passo indietro, ritornando alla legalità. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Cosenza, lo ricordiamo, è sottoposto a custodia cautelare dalla procura di Cremona, mentre per quanto riguarda il processo sportivo iniziato a Roma, la commissione disciplinare, preseduta da Sergio Artico, ha stralciato la sua posizione. Il processo sportivo sul calcio scommesse però va avanti e, nell'udienza di oggi, il procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto che alla Regina sia inflitto un handicap di sei punti da scontare nel prossimo campionato, in ossequio al principio dell'afflittività della pena. Il club di Lillo Foti è stato deferito davanti alla disciplinaria a titolo di responsabilità oggettiva per la presunta combine nella partita Grosseto-Reggina del 15 maggio 2011, mentre per l'ex consulente esterno ed ex direttore sportivo Gianni Rosati la richiesta di Palazzi è stata di quattro anni di squalifica. Immediata la replica della società Amaranto, che attraverso un comunicato stampa ribadisce l'assoluta mancanza di responsabilità e annuncia che sarà a cura dei legali di mostrare nel dibattimento l'estranità della nostra società. Cambiamo argomento, la paura per le continue scosse di terremoto, questa volta la previsione di un terremoto devastante che dovrebbe colpire il sud, arriva dall'Enea e da un ricercatore russo, notizia riportata dalla stampa nazionale che ha causato allarme e preoccupazione. Secondo gli esperti però la ricerca è interessante, ma resta un punto fermo, quello cioè che non si è ancora in grado di fare una previsione precisa sui terremoti. Isabella Roccamo. Queste le ultime scosse in ordine di tempo in Calabria, eventi sismici registrati quotidianamente dai sismografi in una terra, la nostra, ad alto rischio sismico. Questi sono quattro sismografi, a Strongoli, a Mormanno, a Corigliano e a Cetraro. Sono tre tracce per ogni... tra poco probabilmente noi vedremo passare la registrazione, questa è in tempo reale, vedremo passare la registrazione di qualche scossetta. Gli esperti lo hanno sempre detto, il terremoto non può essere previsto, ma questa volta l'allarme su un sisma devastante che dovrebbe interessare il sud Italia, arriva dall'Enea e da uno studioso russo che in base ad un algoritmo statistico ha previsto un violento terremoto entro il 2015. Notizie riportate e amplificate oggi dalla stampa nazionale che ovviamente hanno provocato allarme e preoccupazione tra i cittadini, ma questi studi meritano attenzione. Cosa dobbiamo aspettarci? Questo ricercatore non è un sismologo, però non dice cose scorrette, riporta il risultato degli studi di alcuni sismologi italiani, sovietici, eccetera, eccetera. Tra l'altro questo sismologo sovietico è stato pure qui da noi al Dipartimento di Fisica a lavorare per un mese. C'è da integrare queste ricerche con altre ricerche ancora, ovviamente per fare queste cose servono energie. Insomma, la ricerca è considerata interessante, ma ancora siamo lontani dall'essere in grado di prevedere il terremoto. È da sperare soltanto che questi studi proseguano fino ad arrivare a delle previsioni utilizzabili immediatamente e praticamente. Altra notizia che in questi giorni appare sui social network riguarda il vulcano Marsili a largo del Tirreno che sarebbe pronto ad esplodere. Anche su questo però il professor Guerra precisa. Sotto al Marsilio, sotto al Vesuvio, sotto all'Etna, sotto a un qualsiasi vulcano, ci possono essere terremoti registrati anche a decine di chilometri di distanza. E al momento non ce ne sono, professor? Non mi risulta. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'operazione condotta dalla Guardia Costiera sullo Ionio Cosentino. Il sindaco di Mandatoriccio precisa non è stato sequestrato il depuratore del mio comune, ma i fanghi smaltiti che erano stati sistemati in una vasca. Angelo Donnici punta il dito contro l'ufficio del commissario da anni. Dice aspettiamo il collaudo per il nostro impianto, ma la regione non è mai venuta. Valentina Palmieri. Non è l'impianto di depurazione di Mandatoriccio ad essere stato oggetto di sequestro da parte della Guardia Costiera, ma i fanghi. Non proprio la stessa cosa, dice il sindaco Angelo Donnici, leggendo il provvedimento. E' stata sequestrata una certa quantità di fanghi prodotti in questo depuratore e che comunque sono allocati, si trovano, in una vasca che contiene appunto questi fanghi e che mi preme precisare non possono dare nessun tipo di pericolo all'esterno in quanto si tratta di una materia che appunto rimane chiusa all'interno del sito. 100.000 presenze lo scorso anno, Mandatoriccio, 3.000 anime, vive di turismo. Per questo, sottolinea il sindaco, siamo sempre stati molto attenti al sistema di depurazione, anche se manca dal 2004 il collaudo cui avrebbe dovuto provvedere l'ufficio del commissario regionale. Se vi sono delle strutture di questo depuratore, come per esempio la nastro pressa, che dovrebbe eliminare il volume di questi fanghi prodotti, non è stata mai collaudata, eppure il comune è stata consegnata. Altre cose, altre parti dell'impianto hanno la stessa natura, cioè sono state vennero consegnate all'epoca al comune di Mandatoriccio, ma non sono senza i necessari collaudi. Avrebbe dovuto provvedere l'ufficio del commissario, sicuramente, non certamente il comune di Mandatoriccio. Adesso dalla regione, dall'ufficio del commissario, le hanno detto che provvederanno al collaudo? No, 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 no. E a proposito del sistema di depurazione, il comune di Mandatoriccio ha chiesto un finanziamento per l'impianto, anche quello in stand-by. Abbiamo bisogno come minimo di 150.000 euro per efficientare al meglio questo impianto, che è un grosso impianto, come le ripeto, d'estate deve gestire quel numero di presenti a cui ho fatto prima riferimento. Ebbene, mi è stato risposto da parte della regione che non ci sono i fondi necessari. Ora è pacifico che in questa situazione, a questo tipo di emergenza, non può fare fronte il comune con le sue risorse. Da Mandatoriccio a Sartano, per una vicenda completamente diversa e opera delle sette sataniche, non ha dubbi Don Elio Perrone, il parroco della chiesa del comune alle porte di Cosenza, dove ignoti hanno trafugato oggetti sacri ed ostie. Se i primi sono stati rinvenuti in un cartone abbandonato vicino alla chiesa, mancano molte ostie. Il sacerdote è ancora sotto shock. I ladri sono entrati anche nella sua abitazione per rubare le chiavi del tabernacolo. Anna Franchino. Tanta confusione e poi anche tanto sgomento tra la gente, perché è una cosa del genere. Qui hanno rubato altre cosette, qualche volta dei soldini, delle offerte, eccetera. Ma arrivare a questo non si era mai verificato, una cosa del genere. Non riesce a capacitarsi Don Elio Perrone, il parroco della chiesa di San Domenico di Sartano. Il gestoso sacrilego compiuto dai ignoti qualche giorno fa è davvero sconcertante. Chi è entrato nella chiesetta ha portato via oggetti sacri, uno stensorio, delle epizidi e, cosa più grave, l'eucaristia. Il sacerdote è ancora scosso, alla voce rotta dall'emozione. Mai avrebbe immaginato che la casa del Signore potesse subire una tale offesa. Ho portato gli spartelli dell'armadio, tutte aperte, tutta roba per terra. Però la mia preoccupazione era proprio il tabernacolo, dove c'è conservato il San Dissimo Sacramento. E sono andato a vedere il posto dove era conservata la chiave, la chiavetta del tabernacolo. E non ce l'ho trovata. Allora per me è stata una grande preoccupazione, perché certamente avevano rubato il San Dissimo Sacramento. Poi, se sono andato a vedere, l'ho trovato chiuso però. Quindi la chiave non l'avevo, non sapevo se le avessero presi o no le ostie consacrate. I ladri sono entrati prima in chiesa e poi si sono spinti fin su, in casa del parroco, per rubare le chiavi del tabernacolo e profanare l'eucaristia. Don Elio non si è accorto di nulla, solo quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta, ha capito che qualcosa era accaduto. Verso le tre e mezzo, quattro, la mattina presa sento suonare al citofono e quindi pensavo che fosse qualche ammalato, qualche moribondo per andare a portare l'estremozione. Invece poi ho detto chi è? Ho facciato la finestra, c'erano il marasciallo, un carabiniere e tre persone, ma scendete perché hanno fatto un burto. Allora io sono sceso, sono venuti qui, erano le porte aperte, hanno visto tutto questo disordine qui, robe aperte, ci mancava un lettore ct, dei cavi, poi là c'è un'altra stagetta, hanno preso un candelabro, eccetera. La maggior parte dell'area furtiva è stata ritrovata, i ladri temendo probabilmente di essere scoperti, si sono liberati di un pacco contenente gli oggetti rubati, abbandonandolo su un prato poco distante la chiesa. Solo alcune ostie sono state ritrovate e le altre, per Don Elio, si tratta di un furto da scrivere all'ambiente delle sette sataniche. Se l'hanno presse a scopo, per esempio, di riti di sette, riti sataniche, eccetera, penso che siano di fuori, che si siano servite, però alcune di qui, che lo sa, non sappiamo proprio niente. Io ho chiamato l'arcivescovo, quindi l'arcivescovo è stato molto addolorato, e lui parlava proprio di questo, che da un po' di tempo, anche nella zona del Cosendino, c'è questo fenomeno delle sette sataniche, che purtroppo, quando debbano far aderire gli adepti, hanno bisogno proprio di questi oggetti sacri e osti, specialmente consacrati. Ed ora una storia molto toccante di una giovane donna, di San Lucido, che si è affidata a noi, visto che la regione, a cui si è rivolta numerose volte, non ha ottenuto, non le ha dato risposta. È affetta da una malattia rara, degenerativa, che le ha devastato la mandibola. Dal 2006 è iniziato il calvario dei viaggi della Speranza fuori regione, perché qui non era possibile curarsi. Si ha subito decine e decine di interventi molto complessi e anche costosi per fermare la malattia e recuperare, pensate, la possibilità di mangiare. Ma dal governo regionale non ha mai avuto alcun aiuto. Lei vive con una pensione minima di invalidità. Perché? Lei chiede, per la mia patologia non è previsto alcun sostegno per le cure. Sono forse condannata a morire per l'assordità della burocrazia. Marisa Fallico. Essere affetta da una malattia rara e non ricevere alcun sostegno dalla regione. Essere capace di affrontare dolori, sofferenze, disagi, indicibili, ma sentirsi impotente di fronte ad una burocrazia impietosa. E quando succede ad una giovane donna di San Lucido che si è rivolta a noi in un ultimo disperato tentativo di trovare ascolto nel presidente della regione, Giuseppe Scopelliti, al quale si è rivolta più volte, ma senza alcun riscontro. Katia, questo il suo nome, ha 34 anni. Nel 2006 ha scoperto di avere una displasia osteofibrosa della mandibola, malattia rara, che le ha devastato la mandibola. Inizia il calvario dei viaggi della speranza a Roma. Centinaia, perché qui non ci sono strutture preposte. Nel 2007 il primo traumatico intervento durato 17 ore per l'asportazione della mandibola degenerata è la ricostruzione mediante trapianto autogeno con parte del perone e di un osso prelevato nel cranio. Per tre anni è costretta a vivere senza denti, con tutto ciò che ne consegue, non solo a livello di alimentazione, di dolori continui, ma anche psicologico. Per quel viso che comincia a deformarsi, per l'ingubo costante che la malattia possa estendersi e devastare gli occhi, l'udito, il cervello. Katia deve lasciare gli studi, era l'ultimo anno di giurisprudenza, il lavoro come commessa. Si chiude in casa, non ce la fa ad affrontare la gente. Esce solo per i continui viaggi negli ospedali di Roma. Controlli e interventi. L'ultimo il 12 marzo scorso. Lei ha coraggio e sorretta dalla famiglia, che purtroppo non ha molti mezzi economici, e dal ragazzo, ma non dalle istituzioni, non dalla sua regione, che non le concede alcun rimborso neanche quando deve impiantare i denti. Un intervento che costa 12.000 euro, ma che le consente di poter mangiare, di poter tornare ad una parvenza di normalità. Inutili le richieste di aiuto all'ASP di Paola, a quella di Cosenza, al Dipartimento dell'Assessorato alla Salute. Non solo i rimborsi per i cosiddetti viaggi della speranza sono fermi al 2008, ma, paradossalmente, l'intervento ricostruttivo dei denti non rientra nelle prestazioni erogate dalla regione, come si evince dalla risposta del responsabile del settore e dell'assessorato. Non era un intervento estetico, ma vitale, afferma Katia, che chiede. Avere una malattia rara da queste parti deve diventare una condanna senza appello? Per altre patologie sono previsti i rimborsi per le protesi. Perché per me no? L'odontoiatria sociale, dov'è? Noi rigiriamo l'appello al presidente Scopelliti, sperando che questa volta arrivi una risposta. È un aiuto. Qualche mese fa i sindaci della Presilla Cosentina avevano chiesto l'estensione del servizio dei bus Amaco con Capolinea nel comune di Trenta. Oggi il primo pullman rosso, lo vedete nelle immagini girate dal nostro operatore Michele Cava, ha percorso le strade dei diversi centri ed è stato accolto con grande soddisfazione dalla cittadinanza e anche dalle istituzioni presenti. Il numero 51, superato il bivio di Pedace, Serra Pedace, attraversa il centro di Casole e arriva fino al bivio di Spezzano Piccolo, compiendo numerose fermate. Si tratta di un servizio inaugurato dall'Amaco in collaborazione con le ferrovie della Calabria. E' dalla Presilla a Montalto Fugo dove sono arrivate le reliquie della monaca santa sorella Aiello che è nata proprio nella città della Valle del Crati. Le reliquie resteranno esposte ai fedeli fino a domenica. Vediamo. Le reliquie della beata sorella Aiello sono arrivate a Montalto Fugo, la città in cui la monaca santa è nata. Fino a domenica saranno esposte ai fedeli che vogliono ricordare ed onorare la sora con le stimmate che si prese cura di migliaia di orfanelli. La beatificazione della monaca santa è stata molto sentita dai montaltesi. Un evento di portata storica è un qualcosa che è stato fortemente voluto nel corso di decenni attraverso un lungo processo di canonizzazione, attraverso tutta una serie di passaggi che la Chiesa giustamente richiede in questi casi. Però alla fine devo dire che il risultato è quello di avere una santa, una santa importante. I montaltesi devono essere da questo punto di vista orgogliosi, devono essere fieri appunto di aver dato i Natali a una santa. Il messaggio della beata sorella Aiello è ancora oggi attuale da seguire. Il messaggio grande è della carità, la carità perché ci ha lasciato l'eredità appunto di accogliere i bambini abbandonati e oggi anche le giovani purtroppo in difficoltà. Questo è infatti la nostra opera. L'economia, l'olio identifica la nostra regione, bene serviva una guida degli oli. l'ha realizzata la Camera di Commercio di Cosenza. Il Presidente Gagliotti parla di uno strumento di sostegno alle imprese che rappresentano il territorio. Per noi Stefania Belvedere. In questo contesto economico globale è importante ed essenziale sfruttare le proprie risorse del territorio. E la Calabria di potenzialità produttive ne ha molte. Possiamo e dobbiamo superare la negatività del momento puntando sulle nostre eccellenze. Una di queste è senz'altro rappresentata dalla produzione dell'olio e sostenere le aziende olivicole è uno degli obiettivi che si prefigge la Camera di Commercio. Noi abbiamo dei prodotti di altissima qualità che partiamo dall'olio biologico, pochi sanno che noi produciamo il biologico da un punto di vista anche quantitativo a livello nazionale, pochi sanno che noi siamo i primi produttori. La selezione 2012 degli oli extravergini della provincia di Cosenza, oltre ad essere una guida volta a far conoscere ai fruitori le peculiarità dei diversi oli presenti sul territorio, costituisce anche uno sprono per le imprese che lavorano nel settore. Noi vogliamo dimostrare che la qualità c'è, le imprese ci sono e dare a queste imprese la possibilità di accedere a questi mercati. E allora un'altra iniziativa, sempre in provincia di Cosenza, si tratta di un progetto del sito internet che consente di effettuare un'esplorazione virtuale nello storico campo di concentramento di Ferramonti. La Fondazione Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsi è in collaborazione con la Alfabeti di Milano e la provincia di Cosenza, ha presentato il progetto MUVIF, Museo Virtuale Ferramonti, nato grazie alla disponibilità di alcuni fondi europei. Il progetto, che consente una vera esplorazione virtuale, è visibile online all'indirizzo www.museoferramonti.it e nasce per diffondere attraverso i nuovi media la conoscenza del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia. Ferramonti è stato il più grande campo di concentramento in assoluto costruito dal regime fascista e oggi attraverso questa postazione noi abbiamo la possibilità non solo di diffondere la memoria di Ferramonti, ma anche quello di interagire, perché noi ci rivolgiamo a un pubblico eterogeneo, formato da giovani ma anche da meno giovani, con i giovani, con un linguaggio tipico dei giovani, che è il linguaggio web, perché attraverso il linguaggio web cerchiamo di parlare anche il linguaggio dei giovani, perché i giovani come portatore e soprattutto di pace per il futuro, giovani che devono sapere, perché se si vuole veramente che certe cose non si ripetono bisogna conoscere quello che è stato. A Vibo la sede di Libera, colorata dai bambini che hanno impresso sulle pareti la loro idea di libertà e il sogno di una società diversa da quella attuale, il modo migliore per arricchire una sede e finora un po' spoglia, adesso è certamente più vitale, vediamo. E' da qualche settimana che la sezione provinciale di Libera a Vibo Valencia è la sua sede nel complesso monumentale del Valenzianum, una sede ancora spoglia come può esserlo, una sede appena aperta, ma da oggi arricchita di qualcosa che ha un forte valore simbolico. Le sue pareti bianche sono state presse letteralmente d'assalto da un gruppo di giovani e bambini che con colori e pennelli hanno scatenato la loro fantasia in nome della libertà, libertà dalle mafie. Sotto la discreta ma attenta guida dell'artista Vibonesi Antonio Lagamba, i ragazzi hanno dato libero sfogo ai loro pensieri riportandoli sulle pareti della sede Libera per raccontare la loro visione del mondo, le loro speranze e la loro voglia forte e sentita di vivere in una società libera dalle mafie. Una estemporanea fatta con la spontaneità e la genuinità che solo i ragazzi possono offrire, è un messaggio di pace e di libertà che partendo direttamente dal cuore dei ragazzi ridà colore alla speranza e all'impegno di Libera nella Vibolese. I ragazzi a dare colore alla sede di Libera? A dare colore, a dare anima e a dare qualcosa, sì. Abbiamo incontrato questi ragazzi nel corso di un progetto di legalità sviluppato all'interno della scuola e mentre si parlava è venuta giù quest'idea di venire a dare un segno, a mettere la loro firma in questa sede che allo Stato è ancora spoglia, non c'è nulla, a portare i colori di Libera e tutta la loro gioia, la loro allegria. Libera diventa una parete bianca dove i bambini possono esprimere la loro idea di libertà. Sì, infatti noi abbiamo bisogno di loro perché ci diano la speranza di poter volare in alto come questi colombi che hanno pitturato. Loro sono la nostra speranza, la volontà di questi ragazzi è di uscire fuori da questo filo spinato in trisso di sangue che è alla base delle pareti. È un'idea nata per caso, è un'idea che ci è piaciuta. Noi speriamo di riuscire ancora, di continuare ad avere rapporti con questi ragazzi, a seguirli e che loro seguano noi soprattutto e che questa sede anche per gli altri istituti, per gli altri ragazzi ma per tutta la cittadinanza sia un posto in cui tutti possono venire a portare qualcosa e a prendere qualcosa. Non un luogo esclusivo di pochi ma il luogo di tutti. Chiudiamo con il meteo. Non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento.